Si abbassa il passaggio a livello. Il passaggio a livello chiuso. Il passaggio a livello chiuso. Il passaggio a livello chiuso. Verso Novara. Verso Bellinzona. Verso Bellinzona. Verso Novara. È martedì, siamo a Maggio. Siamo all'Aveno al passaggio a livello sulla linea Luino-Novara. Il passaggio a livello chiuso. Verso Novara. Verso Bellinzona. Il passaggio a livello chiuso. Il passaggio a livello chiuso. Il treno merci è entrato nella galleria Laveno. Ciao. Si rialza il passaggio a livello. Il passaggio a livello chiuso. Il passaggio a livello chiuso.